Le tecnologie digitali hanno ormai preso il sopravvento nella vita di ciascuno di noi. Si tratta di una nuova rivoluzione che genera numerosi benefici, ma che necessita di regolamentazione. Per questo, dopo la sua approvazione nel mese di aprile, è entrata in vigore l'8 maggio 2021 la legge di delegazione europea 22, finalizzata proprio a riordinare un ambito molto complesso. Un nuovo quadro giuridico europeo sta dunque prendendo forma anche alla luce dell'imminente elaborazione dei decreti legislativi d'attuazione delle direttive europee. Siamo nella sede del Corecom in compagnia della Presidente del Corecom Lombardia, Marianna Sala. Grazie per averci ospitato qui da lei. Grazie a voi. Allora, oggi parliamo della recentissima legge che è entrata in vigore l'8 maggio e una legge di delegazione europea che riguarda il tema del digitale. Sostanzialmente, che cosa cambierà appunto questa legge nel mondo della comunicazione? Questa legge di delegazione europea avrà un grandissimo impatto rispetto al mondo della comunicazione perché impone al governo di recepire alcune fondamentali direttive europee, tra cui la nuova direttiva SMAV sui servizi media audiovisivi e la nuova direttiva del diritto d'autore e anche la nuova direttiva sul codice delle comunicazioni elettroniche. Si tratta di una disciplina di settore, quindi per tecnici, ma che avrà anche un grandissimo impatto rispetto alla vita quotidiana dei cittadini, soprattutto la nuova direttiva SMAV. Ecco, perché impatterà così sulla vita di tutti noi? Allora, la nuova direttiva SMAV va a prendere in considerazione quella che è la tutela della dignità della persona e più in generale la tutela dei minori rispetto alle piattaforme digitali. Abbiamo sempre detto che internet era una sorta di far west e i minori non avevano nessun tipo di tutela, mentre è molto normativizzata la disciplina per quanto riguarda radio e televisioni. Del resto il Corecom, che rappresenta un po' il braccio armato di Agicom, vigila proprio sul sistema radio televisivo locale e verifica ad esempio che sia rispettata la fascia oraria protetta nel pomeriggio, quindi che non ci siano programmi che possano nuocere alla crescita dei minori. Ecco, su internet questo non c'era e lo vediamo tutti. Qualunque ragazzino può accedere ad una qualunque piattaforma di condivisione video, YouTube tanto per dirne una, e accedere a contenuti di qualunque tipo. Anzi, il Corecom, nell'arco dei suoi corsi di media education nelle scuole, parlando con i ragazzi, è andato a rilevare che i contenuti che attirano di più i più giovani sono quelli che suscitano maggiore impatto e tendenzialmente sono contenuti legati al sesso o legati alla morte o alla violenza. Tutti contenuti che sono esclusi dalle cosiddette fasce protette della TV dei ragazzi. Quindi se una televisione dovesse trasmettere questi contenuti verso le 4 del pomeriggio sarebbe immediatamente sanzionata. Internet fino ad oggi non aveva di questi problemi. La nuova smave in che modo va a impattare? Va a impattare perché il governo dovrà adottare dei decreti legislativi in cui creerà una forma di autoregolamentazione, dovrà promuovere un'autoregolamentazione o una coregolamentazione con le piattaforme in modo tale che si stabiliscano delle regole ferree affinché i minori siano tutelati ad esempio in determinate fasce orarie e quindi determinati programmi non siano a loro accessibili. Ecco, per la prima volta gli utenti vengono definiti consumatori. Che cosa significa? Allora, anche questa rappresenta una sorta di rivoluzione, cioè l'utente, il cittadino medio che accede ai contenuti audiovisivi, che sia questa la televisione o che siano appunto le piattaforme di condivisione del video, vengono definiti consumatori. A livello legislativo il consumatore è una categoria ben precisa che porta con sé tutta una serie di diritti. Quindi all'utente medio vengono automaticamente riconosciuti i diritti tipici del consumatore. In più che cosa ha fatto il legislatore europeo? Vuole promuovere delle formule alternative di risoluzione delle controversie tra questi utenti consumatori e le grandi piattaforme digitali. Che cosa vuol dire? Vuol dire che il nostro utente consumatore, se avrà qualche problema, qualche vertenza con una piattaforma digitale, potrà avvalersi di sistemi alternativi, quale ad esempio potrebbe essere la conciliazione, la negoziazione, una forma di mediazione. In concreto ad oggi non lo sappiamo ancora perché, ripeto, dobbiamo aspettare i decreti legislativi. Per ora stiamo parlando di una normativa ancora molto fluida perché quello che ci ha dato il legislatore europeo sono solo dei principi che poi dovranno avere la messa a terra tramite il governo nazionale. Però sicuramente il legislatore europeo si muove nell'ottica di aiutare sempre di più la tutela dei diritti dei consumatori. Ora, se le cose vanno come sembrano dovranno andare, il Corecom avrà un ruolo in più perché già adesso il Corecom si occupa delle conciliazioni in materia delle controversie telefoniche o legate a internet e alla pay tv. Se dovesse allargarsi la competenza anche rispetto alle piattaforme digitali, allora il sistema di concilia web, che attualmente è in vigore, potrebbe ampliarsi ulteriormente attribuendo competenze ulteriori al Corecom. E allora devo dire, ne vedremo delle belle perché controversie tra utenti e piattaforme digitali significa un nuovo mondo e tante cose nuove da studiare, ma sicuramente un sostegno in più e un servizio pubblico in più che offriremo al cittadino. Possiamo dire, Presidente, che comunque si è aperto un nuovo quadro giuridico europeo? Assolutamente. E se anche oggi è difficile forse per il cittadino medio cogliere la portata di questa riforma europea, dobbiamo dire che è una riforma che va a rivoluzionare quello che è stato sino ad oggi il sistema dei media, prendendo in considerazione appunto anche internet e cercando, questa è la speranza, è l'auspicio del legislatore, cercando di regolamentarlo. Grazie a tutti.